L'ex premier britannico Boris Johnson ha lasciato definitivamente Downing Street per formalizzare le sue dimissioni direttamente nelle mani della regina Elisabetta II. Nel discorso di congetto Johnson ha ribadito di essere fiero di quanto fatto nei suoi tre anni di governo, sottolineando il sostegno militare a Kiev contro la Russia e il calo della disoccupazione. Non è mancata la polemica contro le regole cambiate in corsa, che lo hanno costretto alle dimissioni a cedere alla leadership del partito conservatore, a Lidstrass che gli subentra anche come nuovo premier della Gran Bretagna.